Diversi progetti in cantiere, partiamo dal servizio scolastico che è ripartito il 12 settembre. Qual è il primo bilancio dopo poche settimane? Al monitoraggio è giornaliere costante e quindi abbiamo subito messo in campo delle variazioni sia alle orarie delle corse che ai percorsi. Il primo blocco di variazioni è stato applicato il 23 settembre e soprattutto abbiamo cercato di migliorare gli intescambi tra le linee automobilistiche con le corse in partenza da Milano 1740 Milano-Garlasco verso le direttrici di Vigevano sulla linea 110 e Pieve del Cairo linea 153. Abbiamo poi, dove possibile, in situazioni di sovraccarico inserito delle corse supplementari come nel caso della linea 172 con la corsa delle 6.55 da Pieve Emanuele verso Sizziano e Pavia e poi più generalmente fatto degli interventi proprio in termini di variazioni di percorsi e di orari per meglio sposare quelle che sono proprio le esigenze e il coordinamento con gli orari degli vari istituti scolastici. Un bilancio positivo soprattutto anche per l'abbonamento annuale degli studenti che è stato apprezzato. Abbiamo oltre 500 abbonati. Quali saranno le prossime azioni che può anticiparci? Il monitoraggio, come dicevo, è costante e abbiamo già una serie di iniziative che verranno sottoposte a breve all'Agenzia per il territorio e il trasporto in modo da ottenere l'autorizzazione. Abbiamo molto parlato nei mesi scorsi della novità del servizio a chiamata inoltre Pò. Qual è stato il primo riscontro da parte dell'utenza? Il servizio a chiamata è partito bene. Nell'area di stradella abbiamo rilevato una media di 4 viaggiatori al giorno che è un indice che è addirittura in linea se non superiore agli spostamenti che vengono effettuati con il tradizionale servizio precedente. Ancora un pochino più in ombra invece il servizio di Varzi per il quale stiamo però provvedendo a un'intensificazione delle campagne di comunicazione. A proposito del servizio a chiamata inoltre Pò l'app Miobus sarà estesa ad un altro servizio molto importante anzi è stata già estesa da alcuni giorni che è il Noctibus. Sì, dal primo ottobre i clienti che utilizzavano il servizio Noctibus con il sistema tradizionale stanno già utilizzando con la nuova app il servizio di Miobus. Ricordiamo che è molto semplice accedere alla nuova app si scarica gratuitamente dagli store sia per iOS che Android e al momento dell'iscrizione basterà inserire la propria mail e una password di default 1234 che poi verrà cambiata subito al primo accesso da parte del cliente. Sul sito internet di Autoguidovie è comunque presente anche un tutorial che spiega molto bene come fare passo per passo l'utilizzo di questa nuova applicazione.